Con il voto della maggioranza di centrodestra e l'astenzione del Movimento 5 Stelle dei consiglieri del centrosinistra Pepe e Di Benedetto, il Consiglio regionale dopo 5 ore di discussione ha approvato la legge 118 che è stata ribattezzata Cura Abruzzo 2. Il provvedimento infatti segue la prima legge Cura Abruzzo varata d'inizio aprile nel pieno dell'emergenza Covid-19. In questo provvedimento, che dovrebbe avere un finanziamento complessivo di 70 milioni di euro, ci sono ulteriori misure a sostegno di famiglie ed imprese nella fase 2 dell'emergenza coronavirus. Complessivamente saranno 40 milioni di euro che verranno erogati a fondo perduto per i settori del commercio, dell'artigianato, per i professionisti, per gli asili da 0 a 6 anni e per contributi agli affitti degli studenti. 1,7 milioni di euro saranno destinate ai comuni delle zone rosse e 1 milione di euro a quelli che hanno dovuto sostenere spese per l'emergenza Covid-19. 7 milioni di euro sono gli aiuti alle famiglie e 3 milioni alle associazioni sportive e direttantistiche a quelle culturali. 4 milioni di euro al turismo balneare, 3 milioni per erogare tutte le borse di studio tramite le ATSU, 1 milione e mezzo per attivare il sisma bonus sugli immobili pubblici. Una legge quadro importante per la regione Abruzzo, una legge quadro importante per le aziende, per i cittadini, per gli enti e quindi speriamo che questa norma unitamente alle norme nazionali possa far rivedere una luce in fondo al tunnel. Dall'opposizione il centro-sinistra rimarca di aver fatto di tutto per migliorare la proposta di legge regionale del centro-destra, verso la quale restano critici perché spiegano il testo a enormi limiti. Primo fra tutti i tempi di attuazione delle misure che slitteranno di mesi a causa dei ritardi accumulati dall'esecutivo nell'approvazione del consuntivo. Proprio sulle coperture ci sono le maggiori perplessità, quelle prontamente disponibili sono appena 19 milioni. Nel frattempo si è talmente allargata la platea da rappresentare per quanto riguarda le tante imprese e i cittadini sostanzialmente di un piccolissimo contributo. Critico anche il Movimento 5 Stelle. I pentastellati sottolineano il loro contributo e quello di tutta l'opposizione nella stesura del testo uscito completamente modificato dal lavoro in commissione. Le proposte dei 5 Stelle hanno riguardato, tra le altre cose, l'eliminazione del click day, l'aumento del sostegno per gli studenti fuorisede, gli incentivi alla mobilità sostenibile anche per i piccoli comuni e al turismo ciclopedonale. Abbiamo cercato di colmare quelle che erano le lacune di una legge che è arrivata in un modo ed esce dalla commissione completamente cambiata. Non solo per il lavoro delle opposizioni che l'hanno certamente migliorata, ma soprattutto per la grande confusione della giunta e della maggioranza.